Buongiorno ragazzi, oggi parleremo dell'analisi dei costi in particolare, riprenderemo la lezione che abbiamo svolto nei giorni scorsi e cercheremo di vedere come si effettua l'analisi dei costi allocando i costi indiretti in base ai centri di costo. Allora, riprendendo molto velocemente l'argomento, avevamo visto le caratteristiche del full costing e del direct costing e le caratteristiche della contabilità analitica. Con il full costing avevamo cercato di suddividere i costi indiretti e diretti ai prodotti che noi vogliamo realizzare, che vogliamo analizzare con diverse configurazioni di costo. Cioè ottenendo dei gradini di costo, delle aggregazioni di costo che ci definiscono prima il costo primo, poi il costo complessivo, costo industriale, costo complessivo, costo economico-tecnico, fino a identificare il costo totale del nostro prodotto oggetto di costo. Ecco, per fare questo noi ci siamo concentrati sulla allocazione dei costi indiretti ai vari prodotti. Allora, mentre per i costi diretti non ci sono problemi perché tutti i costi diretti sono già facilmente imputabili al prodotto a cui si riferiscono o all'oggetto che vogliamo misurare, per quanto riguarda i costi indiretti dobbiamo adottare un certo criterio di riparto. Questo può essere su base unica nel caso in cui per tutti i costi indiretti si adotti la stessa modalità di riparto oppure su base multipla nel caso in cui per ciascun tipo di costo si adottino criteri diversi. Ad esempio avevamo adottato per le materie sussediarie il criterio del riparto in base al costo delle materie prime oppure di solito la manodopera indiretta si ripartisce sulla base del costo della manodopera diretta e così via, altri costi in base al costo primo, al costo industriale di produzione. Quindi abbiamo capito che la problematica più grossa è imputare i costi indiretti ai nostri oggetti di costo che vogliamo misurare. Allora il tipo di riparto che abbiamo fatto noi finora è quello che considera un riparto su base unica o su base multipla e potremmo definire un riparto in base ai volumi di produzione su base aziendale, cioè tiene conto delle quantità di prodotto che realizziamo e questo tipo di riparto si basa o su base unica o su base multipla. Esiste un altro tipo di riparto dei costi indiretti sempre che tiene conto dei volumi di produzione ed è quello per centri di costo che è quello che analizzeremo oggi. Mentre esiste un'altra tipologia di riparto dei costi indiretti che si chiama activity based costing che è un'evoluzione diciamo di questa modalità di imputazione e che vedremo più avanti. Allora per quanto riguarda i centri di costo cosa possiamo dire? I centri di costo sono delle unità organizzative presenti nell'azienda che svolgono certi tipi di attività. E' come se li pensassimo come dei piccoli uffici, come se li pensassimo a delle piccole aree strategiche dell'azienda operative o di supporto allo svolgimento della produzione dell'oggetto che vogliamo realizzare e analizzare. Proprio per questo motivo i centri di costo possono essere reali, cioè presenti fisicamente, quindi un certo reparto, un certo ufficio, una certa zona della nostra azienda che si occupa di svolgere un certo tipo di lavoro. certe persone, certi operai oppure centri di comodo, cioè un raggruppamento ipotetico di alcuni tipi di costo che servono poi per realizzare i nostri prodotti ma che non esistono fisicamente all'interno dell'azienda in un punto preciso. Questi centri di costo possono essere suddivisi in queste tipologie, non vi spaventate con questi nomi, poi li vedremo negli esempi, negli esercizi sarà tutto un po' più semplice. Esistono dei centri produttivi, cioè delle zone dell'azienda, degli uffici, delle aree che si occupano proprio di lavorare e costruire gli oggetti che noi vogliamo analizzare. Poi ci sono altri centri invece che fanno un servizio, cioè sono di supporto al centro produttivo, sono centri ausiliari si chiamano. Ad esempio potrebbe essere una parte dell'azienda che fa il controllo della gestione, dell'organizzazione o della manutenzione eccetera. Poi abbiamo altri centri ausiliari che vengono definiti comuni di servizi alla produzione, cioè forniscono sempre delle prestazioni ai centri di costo o ausiliari o produttivi, la differenza con quelli ausiliari è che questi hanno una tipologia di costo che non può essere misurata in unità fisiche, quindi in unità di prodotto realizzato, ma sono lavori che non sono collegati alle quantità. Poi abbiamo i centri funzionali che si riferiscono a costi relativi all'amministrazione, alla commercializzazione o alla gestione del personale. Vediamo insieme un esempio di esercizio che andremo a realizzare e calcolare. Allora in questo esercizio ci dice che un'azienda produce tre tipi di prodotti A30, B60 e C90. Del prodotto A30 produce 2000 unità. Programma produce e vende. Il processo produttivo prevede la lavorazione dei prodotti nei seguenti reparti. Allora, reparto dell'azienda si intende. Mentre il prodotto A30 viene lavorato nei reparti A e B, il prodotto B60 viene lavorato nei reparti A, B e C. Mentre il prodotto C90 viene lavorato solo nei reparti B e C. Allora, tornando a vedere la nostra slide che spiegava questo tipo di esercizio, ci fa vedere che il prodotto A30, di cui realizziamo 2000 pezzi, viene realizzato nel reparto A e nel reparto B. Il prodotto B60 nel reparto A, nel B e nel C. Il C90 solo nel B e nel C. Torniamo all'esercizio. Ci dice, Nello stabilimento sono inoltre presenti altri centri di costo. Allora, ovviamente il reparto A, il reparto B e il reparto C sono quelli che noi abbiamo definito come centri di costo produttivi, di produzione. Ora, gli altri centri, quelli ausiliari, sono un centro di servizi generali di stabilimento che è di supporto agli altri centri di costo comuni e ai reparti, è un centro di progettazione collaudo e un centro di manutenzione e riparazione che sono di supporto ai reparti. Allora, rileggiamo da quest'ultimo. Il centro di progettazione, quindi la parte dell'azienda che si occupa di progettare i prodotti ideali, idearli e collaudarli una volta realizzati. E poi c'è un'altra parte dell'azienda che si occupa di manutenzione e riparazione, quindi di sistemazione delle macchine. Voi capite che entrambi questi due centri di costo sono ausiliari al lavoro che viene svolto in azienda. Invece, i centri di servizi generali di stabilimento sono centri funzionali che servono a supporto di tutta l'azienda. Magari ci sono costi generali, amministrativi, commerciali, del personale, eccetera. E quindi non servono direttamente per realizzare questi prodotti, però servono per lavorare. E quindi si può dire che sono di supporto sia ai reparti, sia ai centri ausiliari. Torniamo alla slide e vediamo come ho realizzato questa immagine. Allora, ho rappresentato il centro di costo progettazione collaudo, che è di supporto a tutto, come vedete, ai tre reparti. Quindi al reparto A, al reparto B e al reparto C, perché ovviamente è un centro di costo ausiliario che serve a realizzare poi le produzioni e quindi di servizio, di ausilio ai prodotti. Insomma, la realizzazione dei prodotti. Poi abbiamo la manutenzione e riparazione, stessa cosa. Anche questo è di supporto A, vedete le frecce gialle, al reparto A, al reparto B e al reparto C. Mentre il centro di servizi generali di stabilimento aiuta un po' tutti. Cioè aiuta il reparto A, aiuta il reparto B, aiuta il reparto C, ma anche il progettazione collaudo e la manutenzione e riparazione. Aiuta nel senso che svolge un lavoro che è di supporto all'intera azienda. Allora, l'esercizio ci dà alcuni dati di questi uffici. Ci dice che i costi mensili direttamente attribuibili ai centri di costi ausiliari e comuni sono programmati come segue. Il centro di servizi generali di stabilimento ha dei costi di 36.000 euro. Quello di progettazione collaudo 30.330, i centri di servizi di manutenzione e riparazione 38.400. Quindi io ho riportato i costi direttamente all'interno dei centri e ci dà anche i costi dei reparti, dicendoci che il reparto A ha dei costi di produzione proprio di lavorazione pari a 50.000 euro, il B 59.954 e il C 39.866 e ce lo diceva qua. I costi mensili imputati ai reparti, manodopera, materie prime, eccetera, sono i seguenti. A questo punto ci dà delle indicazioni su come poter localizzare questi costi e ci dice teniamo conto del numero degli operai che lavorano in ognuno di questi centri di costo. Nel reparto A lavorano 10 persone, nel B 12, nel C 12, nel centro di servizi di manutenzione e riparazione 4 e nella progettazione collaudo 2. Ovviamente nel centro servizi generale non ci sono dipendenti, perché possono essere anche le tasse, le imposte, i costi per servizi esterni, eccetera. Un'altra cosa che potremmo tenere conto per fare il reparto sono le ore di lavoro dei dipendenti, 1.650, 1.850, 1.850 nei tre reparti e le ore di impiego dei macchinari sempre nei reparti. A questo punto ci dice i criteri che dobbiamo usare per imputare questi costi sono che i costi del centro servizi generali dello stabilimento vengono imputati in base al numero degli operai. Quindi quando adesso andremo a fare questo riparto dei costi relativi a questi servizi, questi li dovremo fare ripartire, fare ricadere sui centri di servizi, quei centri di costo e poi successivamente ai prodotti, tenendo conto inizialmente del numero degli operai, che in totale sono 40. I centri di programmazione e collaudo in base alle ore di lavoro dei dipendenti, la manutenzione e riparazione in base alle ore di impiego dei macchinari e poi i costi di reparto vengono imputati ai prodotti in base a quanti prodotti realizza ogni reparto. Vediamo allora nelle nostre slide come realizzare questo calcolo. Allora predisponiamo una tabella con tutti i centri di costo, reparto A, reparto B, reparto C, centro di servizi generali, centro di programmazione e controllo, centro di manutenzione e riparazione. Andiamo a mettere i costi che l'esercizio ci dà per ciascuno di questi reparti e andiamo a scrivere il numero di dipendenti di ciascuno dei reparti, come avevo messo in questo schema che era solo esemplificativo. Vedete ad esempio reparto A 50.000, reparto B 59.954 e il numero di dipendenti. Poi andiamo a scrivere in quali reparti sono elaborati i nostri prodotti. La 30 è lavorato nell'A e B, il B 60 in tutti e tre e il C 90 solo nel B e C. Poi ho messo le ore di lavoro per ciascun reparto e le ore macchine di ciascun reparto. Qui vi ho messo delle crocette per vedere i costi su cosa ricadono. Cioè i costi dei centri di servizi generali ricadono su tutti i reparti produttivi, ma anche sul centro di programmazione e centro manutenzione. Vi ricordate? Questo serve a tutti. Quindi ho fatto una crocettina scrivendo che viene imputato in base al riparto, sulla base del numero degli operai. Ce lo diceva qua, in base al numero degli operai. Mentre gli altri vengono imputati in base alle ore di lavoro dei dipendenti e alle ore di impiegazione. Quindi questo riparto in base alle ore di lavoro dei dipendenti, questo riparto alle ore macchina. Vedete che questi vengono imputati direttamente ai reparti, mentre il centro servizi viene imputato sia ai reparti, sia ai centri di programmazione. Devo terminare il video perché ho finito il tempo. Riprendo con la seconda parte del video, ma abbiamo quasi finito. Riprendo con la seconda parte del video, ma abbiamo quasi finito. Riprendo con la dante parte del video. Riprend겠죠.